Vieni, Morelli, Cogno, De Piori, Ricci, Bridente, Teno. Prima batteria, Gaglia Trenico a prendere posizione in 172, 184, 188, 205, 245, 239, 241, 252, 253. Un forti bocca al lupo, atleti, buon campionato italiano assoluto 2020 per voi. Vai, Morea! Un forti bocca al lupo, atleti, buon campionato italiano assoluto 2020 per voi. Un forti bocca al lupo, atleti, buon campionato italiano assoluto 2020 per voi. Vai, Grande! E l'applauso, l'applauso all'atleti della prima batteria che abbiamo avuto questo campionato, ragazzi, riuscita. È la vera vita della nostra testa, grazie. Seconda batteria, 130. Grazie. Grazie. Grazie.